Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò la top 3 delle migliori yogurtiere. Vi invito a dare un'occhiata alla descrizione dove troverete tutti i link dei prodotti e le migliori offerte del momento e adesso passiamo alla top 3 delle migliori yogurtiere. Quindi cominciamo con la yogurtiera Severin 3520. Questa yogurtiera è compatta il che permetterà di trovare facilmente un posto in cucina e anche leggera questo significa che si può spostare facilmente senza alcun sforzo. Grazie alla sua grande potenza sarebbe di grande utilità per gli appassionati di cucina. Inoltre la yogurtiera è fatta di materiali di alta qualità e senza BPA. Così non solo è resistente e duratura ma garantisce anche un'alimentazione sana. Inoltre è molto pratico e facile da usare grazie al coperchio a maniglia e all'interruttore della luce. Inoltre il dispositivo ha 7 vasi da 150 millilitri ciascuno e funziona silenziosamente. Poi troviamo la yogurtiera Lagrange 439101 che è una yogurtiera facile da usare con un display elettronico. Ha una funzione che gli permette di fermarsi automaticamente non appena è pronto. Questo apparecchio offre all'utente la possibilità di programmarlo fino a 15 ore. Con questa yogurtiera è anche possibile fare diverse ricette con diversi tipi di latte. Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche di questo apparecchio è dotato di diversi vasi di grande capacità che possono essere utilizzati per fare ricette di yogurt alla frutta. Ognuno dei vasi da 185 grammi può essere personalizzato. I coperchi dei diversi vasetti danno informazioni concrete sullo yogurt. Questa yogurtiera è pratica e facile da conservare. E per finire ecco questa yogurtiera Express di Seb con 12 vasetti da 140 millilitri con coperchi e vaschette per il gocciolamento. Offre la capacità ideale per intrattenere gli ospiti e per l'uso quotidiano. Grazie al suo esclusivo sistema brevetato può fare una deliziosa ricotta fatta in casa con la punta delle dita. Questa yogurtiera ha 5 programmi con una varietà di opzioni ognuno con i suoi sapori su misura tra cui dessert al latte, formaggio bianco e tanti altri dolci. Il programma Express di 4 ore incorporato utilizza la tecnologia avanzata del vapore per produrre risultati perfetti due volte più velocemente. Ha una potenza di 600 watt questa yogurtiera ha infine varietà di dolci per fare un yogurt gustoso. Il suo vassoio con due maniglie permette una facile manipolazione delle pentole. Ecco grazie per aver seguito questa top 3 spero che ti sia stata utile non esitare a mettere un like un commento e ad iscriverti al canale è sempre un piacere. Ti ricordo anche che ho messo i link dei prodotti e le migliori offerte nella descrizione puoi vedere tutto ciò e su questa nota ti dico a presto per un nuovo video.